Invece piano piano completando, ma è ormai già quasi finita, manca solo l'ok per sapere se sarà Barazza oppure se sarà un'altra centrale italiana oppure un'opposta ancora nel roster finale dell'Imoco Volley Conegliano. Qui vedete la chiesa di Santi Prisco e Agnello a due passi da Sorrento dove domani si sposeranno Monica De Gennaro e Daniele Santarelli a cui vanno i nostri migliori auguri dalla redazione giornalistica e sportiva di Eden TV. Quindi 170 gli invitati tra cui anche molti coneglianesi, molti tifosi che sono già scesi da alcuni giorni in quel di Sorrento, Positano, Amalfi, Beati Loro e menù tipicamente locale e anche in questo Beati Loro. Per i due non ci sarà il viaggio di nozze visto che entrambi saranno impegnati con la pallavolo ma naturalmente ancora felicitazioni da parte della redazione.